Io lasciatemi! State commettendo un errore! La sua condotta in questa operazione è stata esemplare. Grazie, signore. Ma sai, il merito è tutto di Emilieni. Ho solo guidato il taxi. A questo proposito, il tassametro gira da ieri. Sapevate che il Belga preparava un colpo alla banca reale del Belgio? Sì. Ci sono delle cassette di sicurezza che legalmente non potevamo aprire. Così abbiamo lasciato fare al Belga e noi ne abbiamo approfittato. Con gli anni che già deve scontare non se ne accorgerà neanche. Esattamente. Ma come sapevate che sarebbe evaso? Trasferendolo da voi c'erano altissime probabilità. Ma sì? Quindi ho partecipato al successo dell'operazione. Sì, sei stato perfetto. E di Giber? Si hanno notizie? Giber? Un flacone di sonniferi gli ha fatto il solletico. Ale, ale! Fateli neri! Ale, ale! Forza, forza! Sì, così, fateli a pezzi! Forza, forza! Accidente, è bello in forma il commissario, eh? Abbiamo fatto di tutto per stiancarlo. L'abbiamo anche iscritto alla maratona di New York, ma mi sa che non basterà. Gioco di gambe! Tira! Dovete segnare! Ma chi mi abbiamo andato questi imbranati? Guardate, sembrano un branco di figuini! Tira! Tira! Ma insomma, non sei mica venuto per giocare a scopetta. La palla bisogna saperla trattare. Guarda! Ehi, così! Così! È così difficile da fare! Guarda, guarda! È quando ti senti pronto! Guarda, guarda! Guarda, guarda! Grazie a tutti Grazie a tutti